Non dico ma la percepite la qualità? Lo sentite il raffreddore che dal mio naso si perpetua nel cavo del microfono fino alle vostre cuffie? Buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete dato dal titolo andremo a parlare di un manga che secondo me non ha i meriti che dovrebbe Sto parlando di un manga relativamente nuovo, di un manga decisamente particolare, sto parlando di Barrage Prima di iniziare però ci tengo a ringraziarvi di tutto il supporto che avete dato allo scorso video riguardo questo argomento Siamo molto felici di condividere con voi questa passione e speriamo che questo tipo di video possa continuare a piacervi Detto questo iniziamo subito Come già detto oggi andremo a parlare di Barrage che è un manga decisamente particolare perché innanzitutto è scritto lo stesso autore di My Hero Academia ovvero Koei Orikoshi È un manga che in Italia è uscito pochi mesi fa, infatti l'ultimo volume è uscito a settembre quindi nemmeno un mese fa Ed è un manga che tuttavia è stato scritto da Orikoshi nel 2012 quindi stiamo parlando di 8 anni fa È un'opera conclusa sia in Italia che in Giappone fatta da soli due volumi che in totale hanno 16 capitoli In Italia come per My Hero Academia è stato distribuito da Star Comics e come già detto questo secondo me è un caso veramente particolare per il quale appunto ho pensato di portarvi un video Partendo quindi dalla storia di questo manga questa è ambientata in un mondo che fa incontrare fantascienza e fantasy Infatti il tutto si svolge su Industria, un pianeta dove fino a poco tempo fa regnavano la pace e l'armonia Sottolinea gli ultimi tempi molti alieni provenienti da differenti pianeti hanno attaccato Industria cercando di conquistarne la fonte del potere In questa realtà che il manga chiama Mondo della Guerra Planetaria il nostro protagonista si chiama Astro Un ragazzo povero che vive negli slum, dei coltieri malfamati e dove il tasso di povertà è altissimo Astro è un orfano che ha sempre vissuto in mezzo alla strada e nella sua vita ha incontrato diversi bambini nella sua stessa situazione Ha quindi deciso di prenderli con sé e di vivere insieme come una famiglia A 15 anni Astro è il più grande di questo gruppo diciamo che fa da papà a tutti gli altri bambini Di conseguenza è l'unico che lavora e è l'unico che si guadagna da vivere per tutti quanti Proprio a causa di questo ruolo Astro ha una grande responsabilità verso i bambini e questo sarà un tema fondamentale all'interno della storia Un giorno quindi dopo aver perso il lavoro e quindi ritrovandosi in una situazione critica nel quale non può dar da mangiare ai suoi bambini Astro incontra il principe Barrage, il figlio del re planetario La particolarità di questo incontro però sta nel fatto che i due sono identici Parlando quindi con il principe Astro scopre che questo vuole venire meno ai suoi doveri E non vuole prendere il posto del padre come regnante del pianeta Di conseguenza per risolvere questo suo capriccio il principe decide di dare ad Astro il simbolo della sua regalità Ovvero lo strumento reale, un bracciale che porta sempre al polso Senza che quindi Astro potesse controbattere il principe si leva il bracciale e glielo mette al polso Dicendogli che avrebbe dovuto prendere il suo posto e che lui voleva essere libero Ma non appena fatto ciò un laser proveniente da non si sa dove uccide il principe Quindi con lo strumento reale al polso le guardie del reame trovano Astro e lo riconoscono come il principe Barrage Di conseguenza lo riportano a palazzo da suo padre Pensando semplicemente che il principe nel tentativo di scappare si fosse travestito da povero Una volta arrivato a palazzo Astro non sa se dire la verità e quindi rivelare di non essere veramente il principe o meno Il tutto è dovuto al fatto che in questa situazione i bambini sono rimasti da soli nello slum Ma dall'altra parte se rivelasse di non essere il principe e che il principe è morto Le guardie reali potrebbero riconoscerlo come responsabile Tuttavia durante questo suo conflitto interiore un alieno attacca il palazzo reale E per difenderlo Astro riesce ad evocare il vero strumento reale Ovvero il bracciale che il principe gli aveva dato si trasforma in un guanto che gli ricopre tutta la mano E che scatena una lancia devastante Con un solo colpo Astro scaia la lancia contro l'alieno annientandolo totalmente A questo punto il re insieme a Tiamat il suo primo cavaliere nonché capo delle guardie militari Spiega ad Astro che lo strumento reale è un'arma potentissima con cui lui da giovane ha portato la pace sul pianeta di Industria Ma che ora essendo debole anziano non riesce più a evocare Inoltre specifica che per evocare lo strumento reale c'è bisogno di possedere il talento del re E di conseguenza poterlo fare è solamente la famiglia reale Da qui ci vorrà poco prima che Astro si faccia scoprire anche un po' volontariamente E riveli di non essere il principe Barrage Nonostante ciò il re riconosce che Astro per primo dopo tantissimo tempo è riuscito a risvegliare lo strumento reale Cosa che nemmeno il vero principe Barrage riusciva a fare E di conseguenza gli chiede di fingere di essere il principe E di andare in giro per il pianeta a ristabilire la pace Astro accetterà quindi questa proposta del re a condizione che i bambini possano venire a vivere nel palazzo E di conseguenza partirà insieme a Tiamat per un viaggio lungo tutto il pianeta per poter ristabilire la pace Quindi diciamo che questo era il prologo di tutta la narrazione E da qui devo dire che gli spunti per uno sviluppo della storia sono veramente tantissimi Innanzitutto c'è il forte contrasto tra Tiamat e Astro Essendo un orfano ed avendo accurito tutti questi bambini Astro è molto legato all'ideale della famiglia Non tanto della sua famiglia ma quanto all'ideale stesso Quindi ogni volta che qualcuno minaccia questo ideale Astro fa di tutto per difenderlo Questo in tutta la storia va a cozzare con la mentalità di Tiamat Che è un cavaliere fortissimo La cui abilità si basa principalmente sulla razionalità durante il combattimento Proprio grazie a questo contrasto quindi durante la storia due riusciranno a migliorarsi l'un l'altro Tiamat insegnerà quindi ad Astro a combattere meglio E a sua volta imparerà a fidarsi un po' più degli impulsi e dei sentimenti Un altro aspetto da esplorare è anche il fatto che sì Astro è riuscito a risvegliare lo strumento reale Ma è comunque un ragazzino che ha appena preso in mano un'arma potentissima E di conseguenza deve imparare ad usarlo Deve imparare a scoprire tutti i segreti dello strumento reale E questo appunto succederà durante la storia Inoltre poi ci sarà anche un interessantissimo spunto sulle origini di Astra Che poi andranno a legarsi in qualche modo con tutta la faccianda planetaria Quindi sicuramente gli spunti per una narrazione ben sviluppata ci sono Tuttavia quello che mi è dispiaciuto veramente È che il tutto si sviluppi in solamente due volumi E di conseguenza tutta la narrazione è molto compressa E in qualche modo anche molto frettolosa Il che potrebbe avere dei vantaggi come degli svantaggi Sicuramente c'è da dire che se vi piacciono le parti di combattimento Di azioni e questa è sicuramente una cosa che va a vostro vantaggio Dato che nella rapidità della narrazione Non c'è spazio per momenti vuoti Come per esempio in maniera academia potrebbe essere il festival culturale E di conseguenza il viaggio ci svolge molto rapidamente E ci sono molti combattimenti contro diversi nemici Dall'altra parte però molti aspetti sarebbero potuti essere analizzati Molto più nel dettaglio E quindi la storia sarebbe stata raccontata In maniera molto più dettagliata Molto più approfondita E i volumi sarebbero stati ben più di due Il che a mio parere data la solidità della storia Sarebbe stato un bene Tuttavia leggendo il manga si vede che questo è stato pensato Per essere costituito dei due volumi Alla fine la storia bene o male si conclude Anche se lascia comunque uno spunto per un eventuale continuo Però potremmo dire che la saga iniziale Si conclude alla fine del secondo volume Inoltre in tutto ciò devo dire che la mano di Orikoshi Si fa sentire Soprattutto ovviamente nei disegni E comunque si riescono a trovare molti punti in comune Nello studio di narrazione di My Hero Academia Che nonostante sia stato scritto due anni dopo Ma pubblicato in Italia solo nel 2016 Trova molti punti in comune con la storia scritta precedentemente Sicuramente Astro e Deku sono due personaggi molto simili Entrambi spinti da un ideale Deku quello di essere un eroe E Astro quello della famiglia Ed entrambi si ritrovano da non avere minimamente poteri A dover maneggiare qualcosa di devastante Di conseguenza questo percorso di miglioramento Di acquisizione di nuove abilità Lo vediamo sia in Barrage che in My Hero Academia Appunto con la differenza che My Hero È raccontato molto più nel dettaglio Quindi io vi consiglio assolutamente questo manga Anche perché per 9 euro Due volumi Vi godete una bellissima storia secondo me Ovviamente mi dispiace che questa non sia stata continuata Però è anche vero che se così fosse stato Forse non avremmo avuto un capolavoro Che è quello di My Hero Academia Quindi ripeto Io veramente vi consiglio questo manga Se l'avete letto O se lo leggerete Fatemi sapere qua sotto nei commenti Cosa ne pensate Se siete d'accordo con me Riguardo la frettolosità della narrazione Che magari sarebbe potuta essere Una storia molto più interessante Molto più dettagliata O se invece l'avete comunque apprezzato Nonostante la sua brevità O proprio perché è breve Detto questo io vi ricordo Se non siete ancora iscritti al canale Di iscrivervi e di attivare la campanellina Per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita E detto questo noi ci vediamo alla prossima Ciao Siamo la tua salvezza